Ciao bc se benvenuti in questo nuovo video, io nonostante abbia un canale che parli di film e serie tv ogni tanto può capitare che mi perda qualche prodotto valido perché sono umano e non è che posso vedere tutto e appunto tra il marasma di film e serie tv che mi sono perso in questi anni c'è come vendere droga online in fretta serie tv originale netflix tedesca con un titolo veramente di merda però la serie è molto valida e purtroppo me l'ero persa completamente nel marasma di serie tv che escono su netflix però dal momento che è uscita la seconda stagione la settimana scorsa sono riuscito a recuperare entrambe le stagioni e adesso ne parliamo un po' ovviamente ci tengo a dirvi che questo video sarà pieno zeppo di spoiler quindi nel caso in cui non abbiate ancora visto questa serie vi consiglio di darci un'occhiata e una volta finita la serie ritornate qui ma per tutti gli altri invece che hanno già visto questa serie iniziamo nonostante la trama di come vendere droga online sia abbastanza derivativa quindi moritz che decide di vendere droga online per riconquistare la sua ragazza e è molto derivativa perché unisce la componente teen alla componente quindi dalla narcos quindi narcos breaking bad quel tipo di serie tv e poi unisce anche una componente molto più leggera che attinge perfettamente da the wolf of wall street oppure la grande scommessa quindi con il protagonista che spiega concetti veramente complessi al pubblico in maniera molto leggera utilizzando degli stratagemmi davvero interessanti quindi serie tv e film di altissimo livello quindi non mi dà fastidio il fatto che sia derivativa perché appunto attinge da cose decenti poi diciamoci la verità netflix fa sempre così netflix fa tutte serie tv derivative e anzi molte volte le serie tv di netflix sono una fotocopia invece come vendere droga online a parte per il titolo ha comunque una sua identità ben definita che sia la fotografia bella sparata su toni accesi il fatto che il montaggio sia molte volte psichedelico la musica anche molte volte sia psichedelica ci sono canzoni interessanti e davvero non scontate nell'ultima puntata c'è un'intera sequenza dove c'è la canzone di skyrim quindi va benissimo a me piace un sacco questa serie anche l'ironia che viene utilizzata in questa serie mi sta bene perché è un tipo di ironia molto sopra le righe tipo le battute con i vari personaggi albanesi che in realtà non sono albanesi che quando fanno così con la testa vuol dire no e quando fanno così vuol dire sì io ho riso come un coglione perché fa ridere come battuta però ogni tanto ci buttano la comicità fisica che quando si tratta di picchiare moritz perché moritz è protagonista buscatande di quelle mazzate ma va bene così però ogni tanto ci vogliono mettere la violenza sugli animali che è effettivamente ancora un tabù è ancora un po' un tabù e non mi dà più di tanto fastidio nei videogiochi nelle serie mi trovo un pochettino stranito perché stanno cercando palesemente di sdoganare questo argomento e nonostante io di solito apprezzi le mosse coraggiose non so se sono pronto a vedere ricci schiacciati con un pugno o uccelli ammazzati a colpi di pala quindi ditemi voi la vostra io sono rimasto un po' così ma andiamo avanti perché un'altra cosa positiva di questa serie sono i personaggi che nonostante siano scritti in maniera molto sopra le righe sono comunque coerenti e effettivamente molto umani in quello che fanno quello che dicono è la maggior parte sono battute cazzate ci sta poi sono teenager ci sta il fatto che loro dicano cazzate però quello che fanno è abbastanza coerente e quindi molte volte sei portato lo spettatore è portato ad amare e ad apprezzare i personaggi ma alcune volte anche ad odiarli questa cosa va benissimo in una serie mi piace questa cosa addirittura il personaggio che più mi sta sui coglioni in questa serie è il protagonista Moritz ed è perfettamente voluto soprattutto in questa seconda stagione Moritz è una testa di minchia lo vorrei prendere a badilate è veramente un personaggio orribile ovviamente orribile non nel senso che è un personaggio scritto male anzi il contrario che una persona come Moritz esiste tranquillamente nella vita reale e Moritz è un personaggio abbastanza complesso perché lui dice di voler creare My Drugs per riconquistare la sua ragazza Lisa ma quando lo fa poi la lascia per continuare a lavorare con My Drugs perché non è quello Lisa non è l'obiettivo di Moritz l'obiettivo di Moritz è non essere più insoddisfatto il fatto di trovare qualcosa in cui lui è veramente bravo è molto Breaking Bad in questo caso per quanto siano due serie tv completamente diverse hanno due intenti completamente diversi quindi ci sta il paragone ma fino a un certo punto e quindi Moritz è un personaggio che ha avuto una china assurda in questa seconda stagione ne ha combinate veramente di ogni ha continuato a mentire spudoratamente a fidanzate, amici, parenti per raggiungere il proprio obiettivo e ne paga le conseguenze in questa seconda stagione seconda stagione che a differenza della prima ha un tema ben definito perché mentre la prima stagione è soltanto una grossa introduzione la seconda ha un tema ben definito ossia la fiducia la fiducia in tutte le sue forme la fiducia verso gli amici la fiducia verso la propria fidanzata o fidanzato ovviamente e la fiducia verso la propria famiglia davvero interessante ed è davvero interessante come sono stati trattati i comprimari come per esempio Lenny un personaggio estremamente puro rispetto a Moritz che fa quello che fa perché sta per morire a una malattia incurabile e dice ok facciamolo ma nel momento in cui conosce una ragazza e si innamora di lei, Kira decide di cambiare e di fare quello che fa per un buon motivo ossia per campare qualche anno in più quindi è già un motivo un pochettino più comprensibile esattamente come è comprensibile quello che fa Len perché Len è un personaggio che si trova lì per caso questo assolutamente per caso è che suo malgrado si ritrova invischiato in questo mondo nonostante lui avesse già un background affiliato alla malavita però era uno spacciatore scolastico non era Pablo Escobar comunque si trova lì in mezzo e quindi si adegua e il personaggio di Len mi piace particolarmente perché ha avuto il tipo di progressione che piace a me che secondo me è quella migliore dell'intera serie ossia il bullo che diventa buono con un motivo e comunque coerente come personaggio esattamente come Steve in Stranger Things quei tipi di personaggi mi piacciono veramente tanto quindi ottimo lavoro sui personaggi di Kira e Lisa non riesco ad esprimermi fino in fondo invece perché Kira è un personaggio che è stato approfondito poco è davvero accennato sappiamo leggermente qualche cosa sul suo passato sappiamo che è un passato turbolento ma va bene così sappiamo anche che è bravissima con il computer però aspetto di pronunciarmi magari in un'eventuale terza stagione Lisa invece a livello di progressione come personaggio nella seconda stagione mi sta incominciando a piacere perché nella prima la odiavo veramente non la sopportavo era di un fastidioso immane in questa seconda stagione ho imparato un pochettino più a conoscerla a capirla e quindi va bene però anche in questo caso voglio vedere come va avanti la storia e poi mi pronuncio su Lisa perché non voglio dire cavolate ma adesso parliamo dei difetti perché ovviamente questa serie non è perfetta ha dei difetti ha in realtà un difetto principale ossia il ritmo il ritmo è davvero altalenante ed è dovuto secondo me ai sei episodi per stagione troppo poco davvero troppo poco due o tre episodi in più avrebbero sicuramente giovato a questa serie e invece no viene completamente abbandonata la storyline di Gerta che viene liquidata nella prima puntata della seconda stagione con una battuta Moritz fa di tutto per rimettersi con Lisa e quando si rimette con lei dopo una puntata la lascia Dan a fine stagione a fine prima stagione era completamente una persona che stava lì per caso nella prima puntata già è amicona con Lenny e leggermente con Moritz lì ci sono alcuni contrasti no Moritz che fa amicizia con gli albanesi in due minuti di orologio e non fraintendetemi quello che succede nella storia va benissimo il problema è che succede tutto troppo in fretta e qualche episodio in più sicuramente avrebbe giovato a questa serie ma basta così il finale è veramente tanta roba il finale della seconda stagione è tantissima roba non vedo l'ora che esca la terza stagione perché è finito con un bel cliffhangerone con Moritz che perde tutto quindi amici e lavoro è davvero interessante non vedo l'ora di vedere questa terza stagione sperando che si faccia perché se non la fanno è un po' un peccato però citando la serie alla fine andrà tutto bene e se non andrà bene non è la fine del mondo fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa seconda stagione di come vendere la droga online e come al solito vi invito a mettere like iscrivervi al canale condividere il video e seguirmi su Instagram Fabio Santoro 98 noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi